CASTELVANIA 1 CASTELVANIA 1 CASTELVANIA 1 era davvero cazzo figo era nuovo, esaltante, bello da giocare METTENGLI CON LA FRUSTO SI BAH! e la parte migliore era che si vedeva davvero che era fatto con criterio beh più o meno allora una cosa che dovete capire dei videogiochi per NES degli anni era che la durata era anche allora importante i giochi costavano tra i 30 e i 60 dollari cristo santo non te li prendevi con i soldi per il pranzo cazzo oltretutto le cartucce del NES non avevano molto spazio e gli sviluppatori cercavano di far durare un bel po' il loro gioco per non darci l'impressione di avere buttato via tutti i nostri soldi facile al tempo pensare a un videogioco fottutamente difficile Cazzo! con ovviamente problemi qua e la e Castelvania fece un passo avanti nella direzione giusta stranamente all'alba dell'era dei videogiochi questi tizi sapevano cosa significava avere un gameplay creavano situazioni casinate per avere momenti più complicati era fuori di testa l'idea era che molti ragazzini andavano avanti a casa facendo tutto se lo facevi in Castelvania il tuo culo era fottuto avevano pianificato ogni livello ad arte i nemici spesso spuntavano fuori dal nulla il che richiedeva il fermarsi e pensare per un istante essere cauto e guardarti le spalle dovevi davvero entrare nel gioco e trovare un modo efficace per sopravvivere altrimenti muori e nonostante fossi questo cazzuto ammazzavampiri la tua frusta partiva in ritardo non era intenzionale il saltare non è in ritardo ma la tua frusta serviva un secondo prima di colpire il che rendeva le cose più difficili richiedendo una strategia negli attacchi e nei salti per evitare di farti ammazzare potremmo vederlo come una metafora di essere in una situazione di vero terrore non è che tu andavi avanti deflagrando qualsiasi cosa che si trovava davanti a te e buttando via la vita ti dovevi fermare un attimo e comprendere la situazione prima di avvicinarti al pericolo con calma e per piacere era grande cazzo era intelligente, complesso ed alta classe E poi ne hanno fatto un secondo ora so che il nerdaccio arrabbiato ha fatto una video recensione di Simon's Quest e adoro lui il video ma me ne sbatta il cazzo ecco cosa va bene in Castelvania 2 NUMERO 1 SENSAZIONI Allora Castelvania 1 e 2 implementavano bene o male gli stessi elementi di base attacca con la frusta uccide i nemici e bam 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 ma Castelvania 2 ti dava più soddisfazione farlo il suono della frusta era molto più figo così come i suoni delle uccisioni c'erano più nemici che resistevano più a lungo ai tuoi attacchi così ti divertivi a massacrarli e oltretutto avevano un piccolo stop quando li colpivi il che era fichissimo anche la fiammella della morte era più figa ed indicava meglio la morte dei nemici perché era più colorata e più più in fiamme rendeva chiara l'uccisione di un nemico o almeno che tu lo stessi colpendo era figo era figo era figo era figo FRUSTARE CAZZO NUMERO 2 Giorno e notte dici sul serio quanto volte i temi di castelvania erano l'orrore e la paura ed era difficile renderle ai tempi del NES cioè guardate sto coso che cazzo è al contrario degli sviluppatori odierni quelli di allora usavano il gioco per creare l'atmosfera assurdo un gioco con roba come questa o questa paura simon quest raggiungeva l'obiettivo di essere incapace e spaventati in qualche modo circondati da qualcosa di oltre le loro capacità che non riuscivano a comprendere sta cosa faceva davvero paura soprattutto quando eri da solo circondato da nemici nel mezzo di un dungeon ed eri tipo rimani giorno rimani giorno rimani giorno che... CRISTO cioè già solo la scritta mi aveva fatto cagare sotto la prima volta del tipo che cazzo succede castelvania uno non aveva sta roba aveva solo scheletri buffi che lanciavano ossa di 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 quando è che finisci le ossa ma va bene volevo solo dare a cesare qualche di cesare simon quest è una merda ed è stupido ed è stupido ed è una merda ecco cosa va male numero tre città è il gioco di ruolo le città erano brutte noiose e non avevano un cazzo a che fare col frustare l'orba in giro il gioco implementava un po' di gioco di ruolo Del tipo comprare oggetti con i cuori che recuperavi dai nemici Che nel primo erano le munizioni delle armi speciali Tichissimo oltretutto E invece ora servivano per prendere upgrade oggetti inutili a completare il gioco Istintivamente questo invece di essere uno stimolo diventa una perdita di tempo rompicoglione Queste cose sono fatte per rendere più lungo il gioco Atta a manipolarti e farti credere che stai facendo qualcosa di più utile di quanto tu non stia Nooo Davvero No cioè davvero Una cosa del gioco non era fatta soltanto per divertirmi Oh no Cioè no Vi chiedo una cosa Qual è la differenza tra A Uccidere un po' di zombie per prendere i cuori Raccogliere abbastanza cuori Tornare in città Per prendere un oggetto per andare in un'altra zona di gioco E B Uccidere zombie e migliorare per poter affrontare la parte successiva del gioco Risposta 4 ore Ecco è questa la differenza tra Castlevania 1 e Castlevania 2 Ed è una differenza notevole e riassume i commenti su due giochi Castlevania 2 era davvero manipolatorio Si girava inutilmente un sacco Mentre nel primo andava in una direzione con un obiettivo determinato E con un boss davvero duro da battere e stimolante Con una difficoltà assurda Cazzo è durissimo Guarda il post Le falci Verda Numero 4 VITA E CONTINUA Castlevania 1 era davvero difficile ma il simon's quest ha abbassato la difficoltà a livelli dei ritardati E un'altra cosa che era cambiata era questa Niente polli Solo chiese Ecco sono queste le analogie che adoro dei videogiochi Castlevania 1 ha il pollo Castlevania 2 ha le chiese Ma cosa cazzo stai dicendo? Polli arrosto misteriosi nascosti nelle mura dei dungeon di Castlevania 1 ti curavano Ma in Castlevania 2 ti curavano le chiese in città Quindi in Castlevania 1 se avessi bisogno di aiuto eri FOTTUTO A meno che non avessi culo non sapessi dove era il pollo Sapete il pollo nascosto dentro le mura In Castlevania 2 sei abbastanza uomo da fare un duro perlegrinaggio fino alla tua città Potevi andare alla chiesa e curarti Ma se morivi semplicemente respawnavi da dove eri morto Ok Vabbè Ma ehi Se perdevi tutta la tua cazzo di vita e continuavi Respawnavi da dove eri morto Ma perdevi tutti i tuoi cuori Quindi se dovevi comprare un super oggetto che ti serviva davvero per poter andare avanti Dovevi romperti i coglioni A ricollezionare tutti i cazzo di cuori E perdere un botto di tempo E tornare indietro a una città lontanissima per recuperare la vita Ti fa perdere un botto di tempo Immagino abbiate capito Così io non devo perdere un botto di tempo a spiegarvelo Questa cosa poteva essere migliorata facendo trovare della vita in giro O i vecchi polli nei muri Ma il punto è che perdi tempo per nessuna ragione Numero 5 I colori Ok non so voi ma la prima cosa che mi ha colpito in assoluto di Simon's Quest Era quanto apparisse noioso Simon Mi faceva Mi faceva appisolare Arancione cazzo Nell'uno risaltavi un sacco Tutti i livelli avevano dell'arancione da qualche parte Insieme a parti azzurre Il colore opposto all'arancione Il che lo faceva risaltare tanto E rendeva il gioco più tridimensionale Quasi vivo In Simon's Quest Semona questa calzamaglia nera con un fratino rosso scuro Che palle Castlevania 2 incorporava questi set di colori Molto scuri e monotoni Senza mai azzardare con colori accesi o con troppi dettagli Come invece facevano nel primo Ma almeno Simon's Quest aveva un sacco di verde L'opposto del rosso Ma era sempre tutto troppo scuro in secondo piano E non si azzardavano mai a usarlo per qualcosa di più Come facevano con il primo Era tutta una noia mortale Ve l'assicuro Tutti i livelli non erano altro che un'enorme cagata incasinata Molto scura Il che bene o male rappresenta l'essenza del gioco WUPS Non l'avrò mica detto ad alta voce Le città erano le peggiori combinazioni di colore che qualcuno potesse fare Erano tutte fatte di un solo colore Piatissime per niente interessante Vai dentro Tutto blu Vai fuori Tutto rosso Poi è notte Tutto blu scuro Cioè andiamo So che il NES non ha una scelta di colori molto ampi Ma dai dammi un po' di contrasto di colori Dammi qualcosa che non mi faccia venire male di spararmi Numero 6 NEMICI DEL CAZZO Come dicevo Castelvania 1 aveva un geniale posizionamento dei nemici Il che ti dava l'impressione che il gioco fosse studiato al dettaglio Ed era duro cazzo Cioè era tutto possibile ma non erano i comandi a fare schifo Dovevi solo saltare e attaccare nel momento giusto Oh mio dio era difficile cazzo era troppo duro E ti frustrava al punto di farti diventare di cattivo umore perché continuavi a morire E morire E morire E quando vincevi era fichissimo ma eri ancora più stressato nell'aspettarti il prossimo nemico Porco di... Ah scusatemi In sostanza Castelvania 1 era la vittoria di un gameplay pensato Puoi vagare nella mappa come cazzo ti pare Il protagonista può arrivare da qualsiasi direzione E i nemici reagiscono in maniera opportuna in qualsiasi caso E' un tipo di gioco che tu ti ricorderai per sempre Invece in Simmons Quest i nemici erano in punti dove chiedevano proprio di morire Come in questa parte dove saltai l'ingiro senza problemi frustando qualsiasi cosa senza pensarci due volte Guardate Castelvania 1 faceva proprio l'opposto soprattutto con le teste di medusa Il problema è che Simmons Quest ha tantissime mappe davvero enormi Con un botto di roba che non puoi prendere subito Quindi c'è un sacco di torniamo indietro Che farai ancora E ancora E ancora Porca troia che palle sono sacco di seggio a dire Che cazzo è quello? Gli sviluppatori hanno preferito mettere dei nemici un po' più semplici Perché vi assicuro che nessuno tornerà mai indietro in un punto come Questo Anche nel castello devi tornare indietro E nei pochi posti dove ti aspetti un attacco sorpresa Non c'è E' come se non abbiano avuto voglia di complicare troppo le cose Quindi con tutti questi mostri suicidi in giro Perché tenere il ritardo della frusta? C'è ancora quel ritardo quando attacchi con la frusta E quando attacchi devi stare fermo come un cretino Se adesso i nemici li puoi falciare senza alcun problema al mondo Perché cazzo è ancora lento come la madonna? Ti rendi conto di queste cose quando un gioco non è pianificato bene E arrivi alla conclusione di tutto Castelvania 1 è pensato e complesso E' ben pianificato e completo Castelvania 2 è solo un casino di merda NUMERO 7 I BOSS Ok Questa forse è una questione personale Però era un po' deludente dover evagare un sacco per il castello per trovare il boss E quando finalmente si facevano vedere dopo tipo 50 ore di gioco Sei super pompato da roba fighissima e quindi li deflagri in un secondo Castelvania 1 aveva dei veri boss alla fine di ogni livello Ed era fico Ed era ancora più figa e pagante Quando dopo averli sconfitti ti riempivano la vita Per farti avanzare verso il prossimo livello Che era diverso con musiche diverse Era come se avessi un obiettivo UN POSTO DOVE ANDARE NUMERO 8 DOVE CAZZO VADO Di questo si lamentano tutti Ed è un punto molto importante Samus Quest è così vasto e incasinato Che non è facile finirlo nemmeno con un cazzo di walkthrough Parli con la gente e questi ti dicono della roba Prima di tutto c'è troppa roba TROPPPA ROBA Cioè i paesani cominciano a dirti sette cose insieme E tu come cazzo dovresti ricordarti tutto? Quindi prendi carta e penna e scrivi Non mi fermo E non dicono niente di utile E' tutto criptico E alcuni mentono pure E quando scopri cosa cazzo fare leggendo su di una guida Torni dal tizio che ti ha detto di fare quella determinata cosa E comunque non capisci un cazzo E' tipo Vai al muro lontano all'estrema sinistra O roba simile Buttati di testa dalla scogliera Ma che cazzo dici? Come lo sistemiamo? Ora una cosa davvero carina è che c'è un tizio chiamato The Almighty Guru Che ha modificato in programmazione Simon's Quest Chiamandolo Simon's Quest Redacted E ha fatto un botto di cose buone Numero 1 Lo scorrimento del testo è più veloce Numero 2 I dialoghi sono comprensibili adesso E quindi finalmente capisci cosa devi fare Numero 3 Il passaggio dal giorno alla notte è quasi immediato E' stato davvero un bel gesto E mostra quanto possono essere creativi alcuni giocatori Ma per quanto ci si provi Non si può sistemare un gioco nato rotto Un sacco di gente si alimenta delle piccole cose Che non gli vanno a genio in questo gioco Ma se il gioco in sé fa schifo Sistemare quelle cose non servirà a molto Bisogna prendere oggetti per prenderli per di tempo I salti fanno schifo I nemici sono davvero fuffa Andare in giro a collezionare cuore Una rottura di cazzo di merda Konami ha cercato di fare qualcosa di diverso con Castlevania 2 Per poterlo fare durare di più del precedente Tutto qui E avranno saputo da alcune persone Che il predecessore era troppo difficile Quindi hanno abbassato la difficoltà E dato il miglioramento del personaggio Fare crescere il personaggio Manterà la difficoltà di gioco sempre allo stesso livello Facendogli solo credere che sia difficile Con nemici che avevano più vita Se non avevi la frusta più forte Ma non era una vera sfida Era solo una perdita di tempo La vera sfida Era schivare le meduse e le asce E rimanere comunque a portata del cavaliere Così da pestarlo e Cazzo Aveva un sacco di vita Ma non è che stavi semplicemente lì a pestarlo Stavi sopravvivendo a questa tempesta di colpi continua Ed ogni danno aveva serie conseguenze per te come giocatore Sì Ma dai un altro L'epilogo La facilità di gioco di Castlevania Svaluta il tempo che passi per giocarlo nel suo piattume generale Cioè fa schifo Ma gli ultimi Castlevania in commercio Usano le stesse tattiche che discutevo poco fa Si corre un botto in giro Sali di livello Devi trovare oggetti per poter proseguire Ma Questi giochi hanno valutazioni assurde Perché? Sarà per le scelte grafiche che sistemano la noia degli ambienti Salire di livello è figo Per via di luci e suoni flash E' figo colpire nemici per via del sangue e via dicendo Davvero eccitante Ci si muove veloce Saltare è divertente Hai un sacco di potenziamenti Che cambiano un poco il modo di giocare Hai dei piccoli premi spesso nel gioco Insomma Tutto ti conduce per manina ad un correre e ammazzare freneticamente E non eri annoiato da salti di merda e Frustate lente Ma hai davvero qualcosa di meglio rispetto a quando giocavi a Samo's Quest Cioè Sconfiggi un nemico che pensi sia duro dopo aver girato un po' e beccato l'arma cazzuta Così da piallarlo di botte Ti senti soddisfatto a dover tornare indietro in un posto dove sei già stato Per prendere un oggetto che ti serve per andare avanti Oppure è meglio dover schivare i nemici e cercare di sopravvivere contro un boss cazzutissimo E come paragonare delle patatine ad un dessert di alta classe Puoi ingozzarti di patatine come un ciccione perché sono fatte per quello E per fartene volere ancora anche se sei già sazio e non ne vuoi davvero Ma il dessert d'alta classe ti chiede di rallentare Gustare e capire quanto sia complesso e soddisfacente E per sempre preferirei il dessert perché ti ha dato una sensazione di vera soddisfazione E non è fatto per essere infinito Ma per essere finito Ed era così buono che ne vorresti ancora Ma era delizioso E sei contento di averlo mangiato Oppure puoi fare il maiale e mangiare tutto No No Grazie a tutti